Buonasera, sono il vostro sindaco Carlo Colizza. Questa comunicazione è per aggiornarvi oggi 13 aprile dell'andamento del Covid-19 sul nostro territorio. Ad oggi, secondo i dati ricevuti dall'ASL, registriamo 79 casi di positività, nessun nuovo deceduto, nessun nuovo guarito e 23 persone in isolamento domiciliare. A tutti coloro che giornalmente si confrontano con il virus, va l'augurio dell'intera città, e il grazie a tutti i cittadini che seguono le prescrizioni, limitando di fatto il provocarsi del nostro nemico invisibile. Non abbassiamo la guardia, non molliamo, perché insieme ce la stiamo facendo e noi insieme ce la faremo.